Un saluto cari amici di Xtreme Hardware, scusate il ritardo ma ho dovuto come potete vedere fare un traslogo, infatti l'audio sarà un po' di eco perché la stanza è ancora vuota. E' giunto dunque il momento di decretare il vincitore del contest Silverstone con cui il quale si aggiudicherà questo alimentatore burale Striker Gold da 750 Watt. Il sorteggio verrà fatto immediatamente qua insieme a voi, utilizzeremo il sito internet random.org per decretare il vincitore. Andiamo insieme dunque a vedere chi è il fortunato che si porterà a casa questo alimentatore. Abbiamo dunque aperto il sito random.org affiancato da Excel, abbiamo inserito in Excel tutti i nominativi dei partecipanti del contest Silverstone. Ovviamente sono stati tutti numerati perché è il via fatto in automatico. Andiamo ad inserire il numero 78 che è il numero dei partecipanti e vediamo chi vince. Oh! E' il numero 35. Vediamo chi è il numero 35. Allora. Il numero 35. Eccolo qui. Dante Abram Sirido. Dunque complimenti Dante per aver vinto il nostro contest e questo fantastico Striker Gold. Verrai contattato su Facebook. Se vedrai questo video magari contattaci anche tu direttamente qua dal nostro canale di YouTube. Tu comunque verrai contattato dalla redazione e ci darai ovviamente i dati per effettuare la spedizione che effettuerò io stesso. E nel giro di un paio di giorni dovresti ricevere il tuo alimentatore. Lascia pure un commento al video, anche su Facebook. Ti ringraziamo e ringraziamo anche tutti gli altri partecipanti del contest. Rimanete sintonizzati perché come sapete la nostra redazione fa numerosi contest e quindi sono numerosi premi che ci sono a disposizione. Detto questo, duomo complimenti Dante. Grazie a tutti per aver partecipato. Da Angela e dalla redazione di Extreme Hardware per adesso è tutto. Un saluto. Ciao ciao. Ciao ciao.